Multiutility significa che puoi usare questi mezzi veramente in tantissimi modi, ma la cosa più importante è che non inquinano, possono avere accesso a tutti i centri storici, quindi sono mezzi veramente consigliati per tutte quelle società, quelle imprese che fanno manutenzione, che fanno assistenze, non so, caldaie, impianti elettrici, cose del genere, perché non c'è alcun problema all'accesso. Ma l'altra cosa che è veramente interessante è che oggi i prezzi stanno veramente allineandosi a quello dei mezzi normali a benzina, quindi sono scesi tantissimo, e soprattutto la manutenzione è una cosa incredibile. Pensate, con soltanto 2 euro al giorno si fanno circa 100 chilometri, che per girare nell'ambito di una città sono più che sufficienti, ma c'è ancora di più, non si paga il bollo per i primi 5 anni, l'assicurazione ha una grande riduzione, quindi per tutte le imprese artigiani, piccole imprese che fanno manutenzione e non soltanto, anche distribuzione di prodotti nell'ambito delle città è fondamentale passare a una flotta formata da questi mezzi. Qui, ad eccellenza, potete trovare realmente quello che vi serve, perché adesso vediamo una serie di modelli. Il mezzo che state vedendo è l'unico quattro ruote motrici, un 4x4, ma pensate, per ridurre i consumi addirittura può andare in pianura con una sola ruota motrice, il che significa tagliare drasticamente i consumi. Questo modello, GEM 7.0, è possibile averlo in diversi allestimenti. Qui state vedendo un due posti, ma si può avere anche con quattro posti e un sei posti, quindi flessibilità e versatilità. Il gruppo internazionale Polaris ha acquisito un'azienda europea che produce questi mezzi versatili perché hanno una diversità di allestimento che va a risolvere qualsiasi esigenza. Sistemi raccoglifogli con tritafoglie e quindi possibilità di compostaggio, possibilità di pulizia e di lavaggio dei cassonetti. Veramente mezzi incredibilmente versatili. Gupil produce mezzi elettrici con batterie tradizionali al piombo. Massima sicurezza, massima efficienza, massima versatilità. Le batterie sono a singole celle, singoli elementi. Ovviamente il servizio di assistenza di eccellenza copre tutto il territorio nazionale, quindi nell'eventualità state tranquilli, sarete sempre operativi. Questa ampia gamma di veicoli elettrici li potete trovare andando sul sito polarisvillage.it oppure gupil.com. Vi aspettiamo!